Se fosse un'opera teatrale si potrebbe dire che siamo al colpo di coda, ma più che ad un dramma, la vicenda delle cinque attività insediate al mercato del Carmine nel cuore di Lucca somiglia più ad una telenovela. L'ultimo colpo di scena, questo è sicuramente esatto, è arrivato dal giudice del Tribunale Ordinario di Lucca, a cui hanno presentato ricorso due delle cinque attività a cui il Comune ha inviato l'ordinanza di sgombero entro il prossimo lunedì 3 luglio. Atti che sono stati sospesi dopo che i legali del Bar del Sole e della Macelleria Simonetti che li hanno impugnati hanno sollevato questioni circa la presunta nullità delle intimazioni a lasciare il fondo occupato e a trasferirsi altrove, a causa dei lavori di riqualificazione che dovranno partire entro fine luglio. In ballo ci sono 4 milioni di finanziamenti del PNRR, che per non andare persi dovranno vedere l'apertura del cantiere entro 31 giorni, un termine che apre adesso una corsa contro il tempo. La decisione sull'intera questione sarà infatti presa dal giudice durante l'udienza di merito che dovrebbe svolgersi al metà luglio e nel corso della quale l'amministrazione comunale potrà far valere le proprie ragioni. Del resto, gli amministratori fin dall'inizio hanno spiegato che lo sgombero è un atto necessario per non perdere il maxifinanziamento e hanno avviato incontri con i commercianti interessati volte a trovare soluzioni che non sono riuscite ad accontentare tutti. L'amministratori finiscono